Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, grazie mille per la puntualità. Sono Barbara Sorgesa da Formets PA, vi do il benvenuto a questo secondo incontro del ciclo formativo La Didattica. Sarà ancora con noi Andrea Marrucci per la presentazione e quindi continuare a parlare di tutto quello che è comunicazione web e social per la PA. Un saluto di benvenuto da parte di Roberto Santi, responsabile del progetto Linea Amica Digitale dell'area comunicazione e relazioni con le PA di Formets PA. A te Roberto la parola. Ciao a tutti, ciao Barbara, ciao a tutti i colleghi. Se siete d'ascordo aspetterei ancora un minuto che si popoli l'aula che vedo che stanno entrando. Magari Stefania, se mi dai un attimo un check sugli ingressi in aula per capire se si arresta il numero di ingressi iniziale? Roberto, stanno continuando ad accedere, stiamo a quota 410, quindi vai tu quando voi inizi. Bene, allora signori, buongiorno a tutti. Sono Roberto Santi dell'area comunicazione e relazioni con le pubbliche amministrazioni e sono il responsabile di Linea Amica Digitale. Due motivi non mi hanno permesso di aprire il corso la volta precedente. Il primo, questioni Covid, e il secondo era naturalmente anche per stile, visto che comunque è intervenuto il capo dirigente dell'area. Con l'occasione però di salutarvi, di ringraziare Andrea Marrucci, il docente. Volevo farvi una brevissima panoramica della iniziativa Linea Amica Digitale e in particolare darvi anche delle informazioni di servizio sul corso e legate a quelle che possono essere le prossime iniziative anche didattiche. Come sapete l'iniziativa Linea Amica Digitale è un'iniziativa voluta dall'allora Ministro Brunetta nel 2009 per supportare l'EPA e i cittadini. In realtà la digitalizzazione fortemente voluta dal Dipartimento Funzione Pubblica ha riorientato questa nuova iniziativa prevalentemente sulle pubbliche amministrazioni, in particolare per spingere la comunicazione e le informazioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per spingere la campagna Riformare l'APA e Sillabus che vogliono riqualificare il personale dell'EPA e per mantenere attivi delle iniziative di monitoraggio sia legato alla conoscenza del PNRR e all'impatto delle politiche europee sia per rinnovare l'interesse che ha funzione pubblica sul monitoraggio sulle auto blu e il nuovo monitoraggio sulle barriere architettoniche nella pubblica amministrazione. Abbiamo dei segnali molto incoraggianti dal Funzione Pubblica proprio in questi giorni sulla continuità di questa iniziativa che come tutti i progetti hanno una scadenza definita, in particolare questo è quella del 29 luglio 2022. Questo quindi anche per segnalarvi che Linea Amica Digitale intenderà, nel proseguo, tentare di fare un raccordo, di costituirsi raccordo, sistematizzazione di tutte le iniziative, le campagne, le politiche del Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare la spinta verso INPA, il sistema per il reclutamento nell'APA, il raccordo con il progetto PERLA sulla mobilità, sulla legge 104 ed altre comunicazioni per legge e anche la tematica attualissima del green negli istituti scolastici e in generale nelle pubbliche amministrazioni. Veniamo a questo corso che sapete essere strutturato in tre moduli da otto ore. Le tematiche comunicazione web social, PNRR e dati aperti sono le tematiche estremamente calde. Forse avrete visto diciamo che nelle ultime dichiarazioni del Ministro si dà grande importanza al PNRR e ai dati aperti. non ultime le norme uscite legate alla comunicazione anche via social nel PIA. Inutile dirvi la lotta che anche Formez in qualche modo ha fatto per spingere l'aggiornamento della legge 150, di cui assolutamente non intendo fare qui nessun tipo di polemica. Per quanto riguarda questo corso molti di voi hanno trovato la possibilità di iscriversi non più, hanno trovato chiusa anzitempo le iscrizioni. Questo perché abbiamo avuto un numero straordinario di richieste oltre 1200 su una piattaforma acquistata da Formez per un anno di mille, per cui abbiamo dovuto in qualche modo accettare solamente una parte delle richieste di iscrizioni. I segnali incoraggianti da parte del Dipartimento di cui vi parlavo era un po' preludio anche per aiutarci a comunicare a coloro che non sono stati accettati in questo corso, che sicuramente nella nuova eh linea mica digitale del duemilaventidue a partire da 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 settembre intendiamo riproporre il corso. Vedremo se le tematiche saranno le stesse ma sicuramente sarà un'altra occasione per un aggiornamento professionale. Eh prima di concludere vi segnalo una cosa un'iniziativa molto importante. Sul linea mica attualmente abbiamo ehm avviato un capitolato per la customer satisfaction intendiamo cioè realizzare una eh piattaforma di customer che possa essere cloud e implementata da pubbliche da tutte le pubbliche amministrazioni che lo vorranno. Naturalmente siamo in fase sperimentale abbiamo anche per tenerci diciamo nei numeri iniziali pensato a trenta amministrazioni sperimentatrici sappiamo che i sistemi di privacy e di sicurezza legati al web a volte sono diciamo un po' vincolanti e quindi non permettono ehm di importare applicativi di questo tipo eh vi eh chiedo di incoraggiare referenti ehm della comunicazione del vostro ente per inserirsi tra le pubbliche amministrazioni che vogliono partecipare a questa iniziativa sperimentale. Iniziativa che sicuramente avrà un proseguo nell'anno successivo. Permettetemi di chiudere questo breve intervento eh e di salutarvi augurandomi un buon lavoro con un ringraziamento particolare a tutto lo staff del Formez che veramente ha lavorato con grande energia e complicità. Come sapete la pubblica amministrazione cammina sulle teste delle persone e quindi mi piace poter e dover ringraziare tutto lo staff dell'area comunicazione in relazioni con le PA che si è ottimamente integrato anche con l'area ICT del Formez. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie mille Roberto, grazie davvero. Diamo adesso il benvenuto ad Andrea Marrucci che ricordiamo essere giornalista professionista da tempo si dedica ai nuovi media social eh fondatore di PA Social, fondatore della testata cittadini di twitter punto it. Abbiamo aperto, lo ricordiamo l'altra volta con la sessione di avvicinare i cittadini al digitale, andiamo un po' più nel dettaglio, quindi ci andiamo ehm a inerpicare nei nei meandri della comunicazione social cercando di renderli sempre più eh facili da gestire per tutte le pubbliche amministrazioni. Andrea a te la parola, grazie mille. Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie a tutti i presenti. Sì oggi eh andremo ad affrontare il tema dei social network vedendo quelli diciamo più eh utilizzati, piattaforme più utilizzate eh dalla pubblica amministrazione eh in Italia. Eh tra queste eh chiaramente la eh la più utilizzata è senz'altro Facebook e partiremo con quella e poi andremo in carrellata a vedere anche eh le altre piattaforme e alcune delle caratteristiche eh che hanno. Eh direi eh se siete d'accordo dopo circa un'ora eh della nostra del nostro incontro di fare una piccola pausa eh per quanto riguarda le domande segnalatele pure in chat e ci ritaglieremo come è successo anche l'altra volta un piccolo spazio al termine eh del nostro del nostro incontro per eh rispondere alle domande. Allora iniziamo subito da Facebook. Facebook è il diciamo il social network che più di ogni altro ha impattato su eh il nostro quotidiano e quindi anche sulla nostra comunicazione negli ultimi anni. È un social che più di una volta è stato detto eh che ormai era arrivato al capolinea ma che invece seppur non crescendo più ai ritmi eh a cui eravamo abituati nei eh primi anni in cui è eh esploso come come piattaforma continua a essere senz'altro un social molto importante. Perché? Perché ancora oggi è quello che fa diciamo i numeri eh più interessanti eh ed è anche quello diciamo nel panorama eh social diciamo è quella piattaforma più generalista dove si può eh comunque affrontare eh tutta una serie di tematiche ed avere comunque quelle interazioni e far circolare le informazioni soprattutto nelle eh eh comunità più piccole. Eh quindi diciamo anche ancora oggi Facebook è un social di riferimento in una strategia di comunicazione eh digitale eh anche perché ancora oggi ha eh più di due miliardi di utenti nel mondo e è sempre più utilizzato per eh cercare e ricevere notizie e informazioni. Questa è una ricerca del Reuters Institute recentissima di quest'anno in cui si vede che Facebook seppur in diminuzione ma eh consideriamo anche che il paragone con l'anno precedente eh eh veniamo da due anni di pandemia e soprattutto nella eh nel primo anno di pandemia i social e eh eh gli strumenti digitali che hanno occupato un grossissimo spazio anche per la ricerca di informazioni ma comunque continua oggi ad essere eh usato regolarmente dagli utenti da un utente su due per cercare e ricevere informazioni. In generale eh lo utilizzavo regolarmente da tre utenti su quattro ma la metà di questi lo cerca lo utilizza proprio per informarsi. Eh poi c'è YouTube, Instagram, Twitter e le chat come WhatsApp e Telegram. Quindi innanzitutto non è più soltanto uno strumento per come dire restare in contatto con gli amici di scuola come alla fine è il motivo per cui nasce Facebook ma ormai è diventato un vero e proprio mezzo di comunicazione e informazione per i cittadini. E questa invece è una ricerca un po' eh del 2018, una ricerca di Infosfera 2018 in cui eh veniva fatta un' intervista, una serie di interviste in cui tra le domande venivano chiesto quali erano le principali fonti di informazione consultate in rete. Come si vede anche anche da questa ricerca Facebook è quello che diciamo è il leader del settore e batte anche portare l'informazione. Quindi cominciamo a eh a vedere questo strumento come il luogo dove i cittadini vanno a informarsi. Eh e come quindi dobbiamo gestirlo? Dobbiamo gestirlo come uno eh uno dei nostri eh principali strumenti di comunicazione e informazione per la mia pubblica amministrazione. Eh come eh le varie caratteristiche di Facebook? Cosa ci eh ci danno? Beh eh chiaramente si arriva su Facebook con un profilo personale io andremo a Rucci si iscrive a Facebook da tutti i suoi dati firma un contratto o la piattaforma e da quel momento in poi è diciamo un eh può iniziare a eh utilizzare Facebook. Per una pubblica amministrazione invece le possibilità diciamo eh sono principalmente due. Eh la pagina che è diciamo lo strumento principale con cui si può eh eh farlo sbarcare o comunque eh sviluppare la prova la comunicazione del proprio ente eh su questa piattaforma oppure i gruppi possono essere anche collegati alla pagina. La differenza è molto semplice cioè le pagine diciamo si sono eh un un luogo dove io fornisco informazioni e il cittadino nel caso interviene i gruppi invece eh sono più o meno dei forum. Quello diciamo che più ci interessa è senz'altro la pagina è così che eh enti e aziende pubbliche sono presenti su eh su Facebook. Eh la pagina chiaramente è un contenitore di contenuti dove noi andiamo a pubblicare giorno per giorno ciò che vogliamo eh comunicare o il modo che vogliamo informare i nostri fan che in sono alla fine il il cittadino che ha deciso di eh seguire eh cosa dei vari aggiornamenti del del mio comune, del mio ministero, della mia regione e questo è un dato molto importante perché il eh il cittadino ha posto un mi piace alla pagina perché ha intenzione di seguire quindi di essere attento a ciò che andremo a pubblicare. Ora è evidente che a quel punto la pagina eh come ogni eh altra eh pagina eh presente su Facebook risponde anche alle logiche dell'algoritmo eh che è quella alla base delle diciamo del avere maggiore o minore visibilità su questa eh piattaforma. Quindi al di là io ho questo strumento quindi eh ma devo a quel punto sottostare alle regole della piattaforma e iniziare a gestirlo secondo le logiche del social network. Eh l'algoritmo di Facebook diciamo è il tende a eh tenerci sulla piattaforma e a mostrarci ciò che ci piace secondo lui. L'esempio diciamo più comune sul funzionamento dell'algoritmo che chiaramente è molto più eh complesso e sofisticato è quella del cioè l'esempio viene fatto solitamente col del del ristorante. Io eh vado a fisso a mangiare eh con con un amico vado al ristorante eh l'amico mi chiama e mi dice guarda io eh sono in ritardo ho pochissimo tempo per favore ordina tu per me. A quel punto io vado a far cosa a analizzare i suoi gusti e il posto dove sono. Quindi vedrò se è pranzo se è cena se è un ristorante etnico di pesce eh se fa soltanto antipasti e primi piatti. Penserò a cosa piace al mio amico se ha delle allergie. Insomma andrò ad analizzare diciamo sì l'ambiente e i gusti e a quel punto arriverò alla scelta. E per l'algoritmo diciamo che può eh funzionare all'incirca lo stesso modo. Va a analizzare i nostri gusti e in base a quelli ci fa vedere eh un contenuto piuttosto che un altro. Quindi da un lato io devo come dire alimentare la mia pagina con contenuti, farlo in maniera costante, contenuti che siano diciamo anche quelli eh che eh sono più eh sono favoriti all'algoritmo. Ad esempio in questo momento i video brevi sono un eh un contenuto e l'algoritmo di Facebook tende a premiare. Dall'altro dovrò vedere anche quali sono i contenuti che la mia community, i miei fan sulla pagina eh preferiscono perché saranno quelli che creeranno un maggior numero di visualizzazioni, interazioni, condivisioni e quindi secondo l'algoritmo saranno quelli da proporre maggiormente e quindi a quel punto se eh ho eh una diciamo sì una community eh che con interagisce con me sempre più l'algoritmo mi farà vedere i miei contenuti. Quindi è diciamo eh un lavoro che una volta avuto il contenitore cioè la pagina devo fare quotidianamente. Eh e un altro passaggio importante per essere poi favoriti dall'algoritmo di Facebook è quello di far verificare la pagina, avere la spunta blu nella pagina perché vuol dire che io sono una fonte affidabile e quindi per eh nella piattaforma avrò diciamo sì una eh corsia eh preferenziale. Eh la pagina come immagino sappiate tutti è può essere gestita da da più profili eh può esserci sono varie diciamo sì eh come dire in carica all'interno della pagina dall'amministratore all'editor e via dicendo e quindi questo ci permette anche di lavorare in team che è un altro aspetto molto importante nella eh strategia di gestione di una pagina perché non sono magari soltanto io a pubblicare contenuti o a fare a vedere eh i risultati della pagina ma possiamo lavorarci in più persone ognuno magari anche con un suo ruolo ben definito. Ed è altrettanto importante andare a vedere il lavoro che sto facendo il eh eh le pagine Facebook come di qualunque altro social ci forniscono tutta una serie di dati che è giusto andare a vedere analizzare non soltanto perché lì vedo quali sono i contenuti che magari eh funzionano meglio o funzionano peggio eh se ci sono diciamo degli orari migliori per pubblicare in base a quanti mi piace condivisioni o visualizzazioni ho ma anche perché nel lavoro di gestione di una pagina andare a vedere i dati magari dati sono anche diciamo eh positivi e importante per presentarli poi chiaramente al eh diciamo al nostro dirigente piuttosto che al cliente se si se ci occupiamo di eh pagine di brand o di eh aziende private. I contenuti si possono eh programmare sulle pagine non potete andare a pubblicare e questo si può fare sia eh all'interno della stessa piattaforma eh ci sono anche il servizio di Facebook eh per diciamo i creatori di contenuti che ci permette di programmare i contenuti su una pagina o anche su più pagine oppure anche attraverso eh servizi sulle esterni ce ne sono molti che ci permettono di eh programmare i nostri contenuti in uscita eh su Facebook e sugli altri social e anche analizzare i dati però dobbiamo quindi da un lato garantire di avere un presidio costante della nostra pagina Facebook perché perché eh noi non dimentichiamo mai che nell'attività di comunicazione social andiamo a interfacciarci con i cittadini quindi non abbiamo un pubblico selezionato a differenza magari di quello è il lavoro eh classico dell'ufficio stampa per cui io ho a che fare con i giornalisti e quindi ho un pubblico selezionato che comunque so dove trovarlo all'incirca ho idea magari delle domande che mi può andare a porre so che difficilmente alle tre magari un giornalista mi mi cerca per avere un'informazione a tre di notte un un cittadino che arriva sulla pagina Facebook può fare qualunque tipo di domanda a volte chiaramente può andare anche off topic rispetto a quella che è la pagina eh può interpellarmi a qualunque ora eh del giorno e della notte eh quindi devo essere pronto come dire a dare eh una risposta comunque i tempi brevi non è che dobbiamo rispondere sempre dopo un minuto anche se ci scrivono alle tre di notte ma dobbiamo comunque come dire essere pronti sempre a interfacciarsi eh con il cittadino quindi dobbiamo presidiare la pagina non esiste l'inserimento di un contenuto su qualunque social e poi come dire ci rivediamo domani per la pubblicazione del prossimo contenuto quindi la pagina va sempre la pagina o qualunque altro account proprio va sempre presidiato al tempo stesso è importantissimo l'analisi dei dati per vedere se il lavoro che sto portando avanti è più o meno positivo e sta avendo più o meno successo è uno dei vantaggi di queste piattaforme che ci permettono anche eventualmente di aggiustare il tiro su quello che stiamo facendo anche in base ai feedback che eh ehm che eh riceviamo eh in un eh in tempo reale da i nostri utenti quindi come dire abituiamoci a presidiare e guardare con attenzione i dati che eh riusciamo a realizzare sulla pagina facebook o in generale sui eh vari social cosa è importante per eh qualunque brand ma così come per eh un ente un'azienda pubblica che è presente su queste piattaforme è importantissima la riconoscibilità perché perché il cittadino deve essere in grado di vedere subito se quella è la pagina ufficiale del mio comune del mio ministero della mia regione quello che sto cercando è quello perché noi magari molto spesso diamo per scontato anche che va bene ci sono mi chiamo eh comune di eh batte la pesca quindi sono sicuramente io non è detto che il cittadino immediatamente possa riconoscere chi sei nel mare magnum delle pagine facebook e dei profili facebook quindi cerchiamo di essere facilmente riconoscibili ad esempio di quale comune eh d'Italia sarà questa immagine di copertina se io la trovo su facebook con chi mi aspetto di quale comune mi aspetto di interagire vediamo se c'è qualcuno che risponde eh in chat esatto a Firenze perché perché si vede subito è un panorama della città di Firenze ok quindi vedo già che sono a Firenze in più come dire l'immagine di copertina facilmente riconoscibile il profilo utente allo sterma del comune il nome utente è chiarissimo città di Firenze quindi come dire riesco immediatamente a capire che sono che andrò a interagire con l'amministrazione comunale di Firenze in più come dire mi dicono che questa è la pagina ufficiale del comune mi danno anche il link agli altri eh ad un'altra presenza social una mail di riferimento questi sono tutti passaggi molto importanti perché come dire si avvicina al cittadino si fa subito vedere che quella è la pagina che addio subito della pagina ufficiale quindi magari se non l'avete nella nella vostra bio eh della pagina un'indicazione come pagina ufficiale io consiglio di eh inserirla e volendo anche di dire da chi è gestita e inserire magari ancora mail di riferimento in questo modo vuol dire si avvicina eh della il cittadino anche all'amministrazione attraverso il social network e subito vuol dire spuntando sul fatto che sono Firenze quindi ho un discreto appeal punto su una rubrica sulla città che è uno degli eh delle cose che funzionano meglio anche su eh sui social network il il sentirsi parte eh di una comunità l'orgoglio cittadino sono temi che sui social funzionano benissimo eh basta pensare che eh a tutti gruppi eh sei di Firenze se sei di Roma se sei di eh eh Napoli se insomma fino alle piccole umanità sei di eh Poggibonzi se cioè sono diciamo piccole umanità che puntano sul sentirsi parte e puntano su l'orgoglio di di essere diciamo in quella parte di territorio di essere cittadini di e quindi questi sono temi che funzionano molto molto bene eh sui social network qui faccio un altro esempio in questo caso eh vediamo chi riconosce eh qual è eh l'ente che eh la PA che si nasconde dietro questa immagine di copertina esatto esattamente il mistero dell'istruzione in questo caso come si vede viene fatta anche una eh inserimento di grafica per eh migliorare la riconoscibilità quindi diciamo oltre a la serie dell'istituzionale si dice anche guarda sono il ministero dell'istruzione alla spunta blu quindi è un eh è una pagina riconosciuta da Facebook e come dice subito il se si clicca sul pulsante c'è subito la eh la possibilità di arrivare sul eh sito del ministero che come abbiamo detto l'altra volta diciamoci sempre che comunque il eh il sito web resta una delle porte di accesso principali per il il cittadino e vuole avvicinarsi all'amministrazione questo invece è un esempio diciamo eh sono andato all'estero alla città di Lione che ai tempi della eh pandemia aveva utilizzato la copertina della pagina Facebook che è diciamo un eh una parte integrante della nostra comunicazione quindi non è che una volta che ho scelto una copertina o una bella foto bene per i prossimi eh anni sarà sempre quella andiamo magari anche intervenire a cambiarla perché fa parte del messaggio che vogliamo mandare perché chi arriva sulla mia pagina vede la copertina e lì ci possa inserire eh un messaggio in questo caso ai tempi della pandemia ricordava eh di indossare la mascherina attraverso la eh copertina su Facebook anche in questo caso poi era tutta la bio insomma era costruita molto bene se avete modo eh andate come negli altri esempi ho fatto vedere andate tranquillamente a vederla perché è comunque una diciamo una eh c'è una grossa attenzione al eh al fatto di informare immediatamente il cittadino e quella pagina ufficiale fare cross medialità di cui abbiamo parlato anche l'altra volta quindi eh magari il cittadino arriva all'utente arriva su Facebook ma di lì vi faccio vedere sono anche su Twitter su Instagram su YouTube e quindi posso eh come dire eh utilizzare magari Facebook come porta di accesso ma poi spostarlo anche su altre presenze digitali ci sono anche eh le pagine evento tra le possibilità che possiamo utilizzare eh con Facebook eh le pagine evento ci servono in special modo se abbiamo bisogno eh di eh eh come dire abbiamo un evento un appuntamento e vogliamo in qualche modo andare ad approfondirlo quindi che cosa succede? Che se io magari ho eh un appuntamento dove ho venti relatori per dire e quindi voglio comunque lanciarlo farlo vedere far girare la notizia eh su su Facebook rischio di eh puoi dire eh occupare interamente informazione magari della mia pagina principale della pagina della mia amministrazione su eh per quell'appuntamento e allora preferisco magari puntare su una pagina evento in modo che lì possa sviscerare l'argomento presentare relatori eh via via inserire le informazioni fino a raccontare poi il post evento quindi come dire sono per tematiche specifiche posso decidere di affiancare alla mia pagina ufficiale anche una pagina evento è evidente ora noi andiamo a come dire a vedere tutte le opportunità che ci può offrire o grappare le opportunità che ci possono offrire i social network poi alla base della scelta se aprire ancora pagina evento e essere presente su n social network c'è un'analisi del diciamo della forza lavoro che ho a disposizione delle professionalità che ho a disposizione chiaramente però ecco le opportunità nella comunicazione social sono veramente eh numerosissime quindi uno dei lavori che devo fare è valutare su quali piattaforme magari eh essere presente e con quali modalità perché posso eh valutare di utilizzare una piattaforma rispetto a un'altra anche in base al target che voglia andare a colpire diciamo se facebook non ha più giovanissimi come eh presenza però ha un che copre in gran parte della eh della popolazione magari sono altri social che vediamo anche dopo come instagram o tiktok che invece mi vanno a prendere le fasce più giovani di età e allora se devo fare una campagna magari di informazione particolare posso preferire eh un social piuttosto che un altro chiaramente devo essere deve avere la forza lavoro di essere in grado di gestirlo perché come ho detto prima presidiare essere presenti riuscire a inserire contenuti di qualità e che funzionano è necessario altrimenti meglio evitare poi ci sono i gruppi come ho detto prima dove eh diciamo c'è più interazione eh le persone si conoscono fra di loro e questa modalità diciamo è eh è cresciuta l'attenzione verso i gruppi durante la pandemia sono formati eh molti gruppi di eh cittadini eh collegati anche a pagine delle amministrazioni perché perché durante la pandemia bloccati in casa è cresciuta diciamo sì la ricerca di persone che avevano i nostri stessi interessi per cui sono andate tantissime piccole comunità online eh quindi anche con gruppi su Facebook dove scambiarsi informazioni è è stato diciamo un movimento che soprattutto eh nel primo anno di pandemia diciamo nel 2020 ha visto una rinascita di questo strumento eh dei gruppi ad esempio eh l'azienda sanitaria eh Toscana Sud-Est l'aveva l'ha sfruttato questo eh diciamo questo momento del eh nel recupero diciamo nel dei gruppi che nascevano spontaneamente l'ha collegato alla sua pagina aziendale a un gruppo in cui chi si trovava in isolamento domiciliare poteva scambiarsi informazioni farsi anche banalmente compagnia e avere anche un eh eh un contatto con professionisti psicologi, psicologi, biologi insomma in modo da aiutare a superare un momento molto difficile eh delle eh della propria vita perché eravamo perché il cittadino si trovava in un isolamento domiciliare a causa della eh pandemia. È evidente che qualunque eh strumento deve essere eh riempito di contenuti che siano adatti alla piattaforma. Quindi nel caso di Facebook abbiamo parlato, l'ho detto anche quando parlavamo del web, ancora di più su Facebook, i post devono essere efficaci, il copy deve essere breve, chiaro, facilmente comprensibile. Dobbiamo, se siamo presenti su Facebook se decidiamo di essere presenti su Facebook immediatamente porci la questione del visual. Le immagini e i video sono i contenuti che hanno maggior successo su tutti i social e anche su Facebook. Quindi dobbiamo valutare se abbiamo un archivio eh eh fotografico, se eh abbiamo a disposizione professionalità che ci permettono di come dire arricchire le foto, se vogliamo, se abbiamo possibilità di fare video, video in animazione, sono tutte eh domande che nella gestione della pagina o nell'apertura di una pagina dobbiamo occorci e cercare di avere anche come dire fantasia. Sono sono un ente, sono un'istituzione, non devo perdere il mio tono, non è che devo eh scendere troppo nel eh lo smart, nel friendly, nel eh come dire nel frizzante, ma comunque devo adattarmi in qualche modo alle regole di comunicazione, al linguaggio della piattaforma e delle piattaforme in generale. Se pensiamo alle stories, sono una, un modo di comunicare che è tutto l'opposto di quello che può essere diciamo il tono ufficiale eh di un ente, di una di un ministero, di una regione. Però se quello è il linguaggio, perché prima ancora che un una diciamo modalità di inserimento di un contenuto sui social, le stories sono un linguaggio, un linguaggio soprattutto dei più giovani che piano piano si è allargato anche a fasce di differenza di età. Cioè mi basta una foto con un emoticon e un testo veramente minimale, ma forse ne posso fare anche a meno, una foto, un video, uno dopo l'altro e racconto, racconto la storia, lancio il messaggio che voglio lanciare. Quindi abituiamoci se decidiamo di essere su queste piattaforme a parlare come si parla su Facebook o su Instagram, perché altrimenti chi c'è dall'altra parte non capirà quello che diciamo, non avrà interesse per le nostre informazioni. Qui faccio vedere un esempio, ad esempio il Comune di Bergamo che cosa fa? Utilizza una immagine della sua città, un'immagine di cui cita anche, fa anche il credito, Marta Ravelli se non leggo male, e così dà il buongiorno. Perché? Perché ho dei contenuti, come dicevo prima, faccio vedere una parte della città, una bella immagine, do l'idea del territorio, faccio una cosa molto freddice, do il buongiorno, dando anche l'aggiornamento medio, un linguaggio molto semplice, da social, come potrebbe fare il mio amico. Ed è un contenuto che fanno, questa è una rubria che hanno tantissime amministrazioni di enti pubblici, ma che funziona ancora benissimo. Perché? Perché è proprio un argomento da social. Questo invece è il Comune di Arezzo che per, come dire, l'anno scorso, alla ripartenza dopo l'estate, dopo il primo anno di pandemia, realizza un video per dire come andremo a scuola e al lavoro da settembre. Un video fatto bene, che chiaramente raggiunge 4541 visualizzazioni. Per un comune che non è che ha milioni di abitanti. Quindi utilizza la piattaforma secondo le sue logiche, con un contenuto però istituzionale. Io metto un video, ma è un video istituzionale. Però, essendo quello che il contenuto che va bene su Facebook, mi raggiunge molto più facilmente i cittadini utenti. Parliamo anche di Twitter. Perché? Perché se Facebook resta diciamo la piattaforma senz'altro di riferimento, Twitter è stato il social network che in qualche modo ha visto per primo l'arrivo delle pubbliche amministrazioni. E' stato il social che ha per primo veramente costretto la pubblica amministrazione italiana, e non solo, a un cambio di linguaggio. Perché? Perché improvvisamente il mio messaggio doveva stare in poche centinaia di caratteri. Pensiamo allo sforzo delle prime amministrazioni che hanno deciso di utilizzare questo strumento, che però funzionava molto bene, soprattutto per la comunicazione in emergenza. E quindi poteva essere un alleato importante nella comunicazione del comune. Però per farlo mi dovevo in qualche modo adattare alle regole della piattaforma. E quindi i testi lunghi, come dire, tutte quelle informazioni molto spesso non necessarie, che però la PA dava, su Twitter non avevano spazio. E quindi si è accostretto veramente la nostra PA a misurarsi con i nuovi media. Non solo, ma Twitter che oggi ha comunque un social importante, una social di comunicazione. Se io ho le esorze e le possibilità, è chiaramente bene esserci su Twitter, per una serie di ragioni che poi andremo anche a vedere. Anche, diciamo, oggi non ha più quella PIL, magari, che aveva ormai più oltre circa dieci anni fa, però resta importante anche per, come dire, per l'ascolto. Su Twitter è molto più facile andare a vedere, a capire quali sono i temi magari maggiormente interessanti. Perché? Perché non c'è il sistema di diventare amici, quindi si può vedere qualunque tipo di contenuto, si può condividere qualche tipo di contenuto. Quindi c'è una piattaforma, per qualche ragione, per questa ragione, è anche molto più aperta rispetto a Facebook. Ci costringe a, ci dobbiamo sempre pensare che possiamo parlare a chiunque, quindi, non soltanto a chi ci segue. E quindi il nostro pubblico potenziale su Twitter è quasi infinito, insomma. ed è importante per fare monitoraggio, vedere quali sono i temi più interessanti. E quindi cercare poi di inserirsi nelle conversazioni. Perché se io oggi, se adesso vado a vedere magari, mi collego a Twitter, vado a vedere quali sono i trend delle discussioni, gli hashtag diciamo, più seguiti, posso comprendere se, diciamo, oggi è cosa sta succedendo nel mondo, ma la ricerca si può anche restringere. Quindi, come dire, capire se il tema di oggi è la giornata mondiale per la salvaguardia del pianeta, pensare a inserirmi nelle conversazioni con un contenuto, magari, della mia amministrazione, collegato al tema, diciamo, di cui tutti parlano. Come se io entrassi in una piazza, tutti stanno parlando di uno specifico argomento e quindi poi io ho da dire qualcosa e mi inserisco in quella conversazione. e in teoria, quindi, vuol dire, faccio conoscenza, mi faccio amicizia. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo, su Twitter, dobbiamo essere pronti a, vuol dire, andare a interloquire con gli utenti sul tema del giorno. Dobbiamo stare, come si diceva, per chi ha avuto esperienze del giornalismo, stare sul pezzo per, vuol dire, seguire, l'evolversi di una notizia. Perciò, dal punto di vista dell'organizzazione, Twitter è ancora più impattante una strategia di comunicazione social, perché devo seguire sempre, con attenzione, tutto quello che avviene. Devo, come dire, pubblicare un grande numero di contenuti, perché, a differenza di altre piattaforme, il contenuto che vado a pubblicare su Twitter ha una vita molto più breve, scorrere molto più velocemente, e quindi devo cercare sempre di essere, di andare a, come dire, essere il contenuto che sia visto, che chiaramente deve essere interessante, e quindi serve una pubblicazione molto più frequente. Come ho detto, attraverso gli hashtag si possono monitorare gli argomenti del giorno, e crearsi una community è possibile anche su Twitter, anzi, in teoria, posso allargare molto di più la mia community, perché un messaggio che io voglio lanciare anche verso l'esterno, al di fuori, diciamo, degli utenti che solitamente seguono la mia pagina, è molto più facile su Twitter rispetto che su altre piattaforme come Facebook. Infatti, andare seguendo le tendenze, avendo maneggiare bene le tendenze, riesco a raggiungere anche un pubblico molto più ampio rispetto a quello che invece posso raggiungere attraverso la presenza su una pagina Facebook. È chiaro che non è che io vado a vedermi l'hashtag, e poi, non so se l'hashtag è salviamo il pianeta, io vado a fare un tweet dicendo, oggi seduta straordinaria del Consiglio Comunale, salviamo il pianeta, perché non avrà comunque interesse nella comunità. Devo trovare l'argomento, diciamo, mio, da collegare a quelli che sono i temi più dibattuti, come ho detto prima. E quindi, su Twitter è bene esserci, ma per farlo dobbiamo, ancora di più che su Facebook, interrogarci su quelle che possono essere, da un lato, le risorse umane e professionali da poter impiegare, e dall'altro, il numero di contenuti che andremo a pubblicare. Un utilizzo, però, che è stato fatto, in passato, di Twitter, molto interessante, è stato anche quello di utilizzarlo come sportello per dare informazione ai cittadini. È stato il primo social network con cui si è sperimentata questa modalità. Diciamo che oggi è meno diffusa l'idea di Twitter come sportello al cittadino, ma anche in questo caso è stato, diciamo, è stato un'apripista per esperienze poi successive. Questo tipo di esperienza, che è valida per Twitter, ma oggi è utilizzabile su qualunque social, che cosa ha portato a una velocità nello scambio di informazioni tra l'utente e, in questo caso, diciamo, la pubblica amministrazione. L'esempio, diciamo, funzionato tantissimo, fatto da apripista per tutti, è quello dell'Expo del 2015. Fu creato un account AskExpo, che era un infopoint, tutto proprio della relazione tra Expo e Twitter, e raggiunse risultati veramente eccezionali in pochissimo tempo. Perché? Perché riusciva a elaborare le richieste, dare risposte alle domande in pochissimo tempo rispetto al tradizionale call center. Perché molto spesso le domande che vi possono essere poste su questi strumenti, strumenti digitali, special modo social, e ancora di più sulle chat, come vedremo poi in uno dei prossimi appuntamenti, sono domande magari molto semplici, a cui si riesce a dare risposta veramente a volte soltanto con un link, perché la richiesta è magari dove posso scaricare il modulo per la mensa, o dove posso trovare i prossimi appuntamenti in programma del festival estivo della mia amministrazione? Dove trovo magari gli incentivi per i giovani agricoltori? Sono domande magari che, di cui c'è già la risposta all'interno dei tanti contenitori digitali dell'amministrazione, ma che il cittadino non riesce magari a trovare immediatamente, abbiamo visto anche l'altra volta, oppure comunque sono segnalazioni per piccoli problemi, necessità anche minimali, quindi attraverso un social, ad esempio in questo caso era Twitter, avevano una soluzione molto più veloce rispetto al tradizionale telefono. Perché? Perché se io telefono, magari aspetto di prendere la linea, una volta presa do tutta una serie di informazioni a chi è dall'altra parte, ma non è detto che lo faccia in maniera concisa, non è detto che tutte le informazioni che do siano belle e veramente sono importanti per la risoluzione del mio problema. Ecco, la brevità di Twitter costringeva a dare poche informazioni, diciamo, le informazioni necessarie. E su questa esperienza c'è stato anche uno studio per cui il costo della risoluzione via Twitter era stato un sesto rispetto allo stesso costo che avrebbe avuto il servizio via Col7. Andiamo a vedere adesso anche un social più nuovo, che si è però imposto all'attenzione, soprattutto in questi ultimi anni, che ha una metodologia di linguaggio totalmente diversa, che è Instagram, che nasce nel 2010 e, diciamo, via via ha avuto varie evoluzioni. Dopo pochi anni è entrato nell'universo Facebook ed è stato quello che nella strategia di Facebook o di Meta, come si chiama adesso, è stato destinato ai nuovi linguaggi. Le varie innovazioni nel mondo social poi sono andate, come dire, a implementare le funzionalità di questa piattaforma. L'abbiamo visto, nasce come un social, diciamo, a metà tra un social e un'applicazione di foto di tocco delle immagini, poi via via diventava sempre più importante a livello di comunicazione. Oggi ha sobrato il miliardo di utenti e più della metà di questi, secondo le stime, utilizza ogni giorno la piattaforma. Se pensiamo che meno di dieci anni fa gli utenti erano appena 130 milioni, vediamo come la crescita è stata esponenziale. Anche attraverso, come dicevo, l'utilizzo di questi linguaggi più innovativi, tra questi le stories, come che citavo anche prima, che sono dei take di immagini video con aggiunta di una scritta piuttosto che un emoticon che ormai sono, diciamo così, gli utenti di Instagram, il 70% di gli utenti di Instagram guardano le stories tutti i giorni e quasi il 90% pubblica stories, cioè lo utilizza per questo linguaggio. Che tra l'altro, le stories non nascono su Instagram, nascono su un'altra piattaforma che si stava diffondendo nei collegi americani, ovvero Snapchat, che era a metà tra una chat, un'applicazione fotoritocco e un social network. Facebook prova ad acquistare Snapchat, non riesce nella scalata, diciamo così, e quindi che cosa fa? Prende quella funzionalità e la riporta su Instagram e avviene un ulteriore boom della piattaforma. Perché? Perché ormai i ragazzi, soprattutto i più giovani, erano abituati a questo tipo di linguaggio e piano piano i brand si sono adattati a quello stile e via via si sono portati dietro tutti gli utenti e chiaramente anche la pubblica amministrazione che inizialmente sembrava veramente riuscire a pubblicare una stories quasi impossibile se non per determinate categorie anche di enti pubblici, sono quelle per cui li facevano già promozione, poteva essere chiaramente uno strumento in più, la piattaforma ha delle belle immagini che ti dà anche la possibilità di creare dei contenuti perché a tempi tra l'altro erano tutte a scadenza, però che ti permettevano in qualche modo di promuovere il territorio, era chiaramente più semplice. Per un'amministrazione locale, magari un comune, che faccio, racconto il bilancio attraverso una storia su Facebook oppure una regione che va a fare un regolamento per la gestione dei rifiuti, va a raccontare una storia attraverso una storia in cui bisogna mettere la faccina che ride piuttosto che la corona o altro, sembrava un'operazione praticamente impossibile, ma invece oggi è diventata la normalità. La pubblica amministrazione che cosa fa? Utilizza Instagram e per farlo è necessario pubblicare foto, comunque immagini di qualità, e questo deve essere ben chiaro, cioè non è che io vado su Instagram e ci pubblico una locandina a pari pari che metto sui muri della città. Chiaramente devo creare dei contenuti che siano accattivanti per la piattaforma, sia a livello di immagini, di post, e in questo caso anche il copy deve essere molto breve, l'utilizzo dell'hashtag, diciamo, in media non sono più di 10, 11, gli hashtag che vanno in un post su Instagram, ma soprattutto devo andare a pensare a dei contenuti anche per le stories. E quindi cosa faccio? Racconto magari il diariole quinte del mio ente, racconto, che ne so, cerco di raccontare anche cose complicate, come un bilancio, cercando di renderlo il più semplice possibile, magari realizzando delle piccole infografiche che vanno nelle stories. E quindi in questo modo, come dire, riesco anche a comunicare un tema che diciamo se non è tutt'altro che frizzante ed emozionale, ma può essere un bilancio, però attraverso un visual fatto bene, un'infografica, riesco a farlo passare anche in quel formato, in quel linguaggio che è quello in cui si aspettano le persone che stanno su Instagram. Perché non stanno su Instagram perché ci sono io, ma stanno su Instagram per guardarsi foto, stories e via dicendo. Quindi io devo dargli quello. E come si vede, la popolazione, questa non è italiana, è diciamo tra tutti gli utenti Instagram, la popolazione che sta su Instagram è principalmente sotto i 34 anni. Sette utenti su dieci circa hanno meno di 35 anni. Quindi cosa vuol dire? Che è un pubblico giovane. Quindi anche lì dovrò valutare se alcune tematiche magari sono più adatte a Instagram e magari decidere di sfruttare la piattaforma per raggiungere quegli utenti. Ma se voglio raggiungere quegli utenti, il linguaggio che devo utilizzare è lo stesso che parlano loro. Altrimenti non mi comprenderanno. Perché Instagram è Instagram. E quindi non posso utilizzare lo stesso logic, lo stesso contenuto che utilizzo su una piattaforma come può essere Facebook o Twitter. Anche in questo caso è fondamentale la riconoscibilità poi della mia pagina, in questo caso è il Comune di Trieste, mette lo stemma, la bio, fa vedere che il profilo anche in questo caso è verificato perché come avviene su Facebook, anche su Instagram ma anche su altri social network, ci possiamo far verificare il profilo e quindi questo ci dà chiaramente maggior peso sia all'interno della piattaforma nella scelta dell'algoritmo sia quando un cittadino arriva sul nostro profilo Instagram e quindi sa che quello è davvero il mio comune, la regione, il ministero. Le stories che se io le realizzo le posso anche fissare e quindi posso valutare. Bene, siccome quest'anno faremo una campagna per non lasciare i cani, non abbandonare gli animali, allora magari creo tutta una serie di stories che poi mi tengo nella pagina e quindi, vuol dire, è un contenuto che va, che continua a esistere, anche non è più soltanto un contenuto che va a scadenza. Come ho detto, l'hashtag è diciamo 10-11, la media all'incirca. Devono essere hashtag pertinenti e coerenti anche in questo caso, non è che se io vedo che va di moda l'hashtag tutti in piedi, allora lo metto perché comunque vedo che è pericchio utilizzato, quindi quasi quasi lo vado ad aggiungere al mio copy perché magari ho più visualizzazione. No, devono essere hashtag pertinenti e coerenti, trovate online anche numerosissimi servizi che mi indicano gli hashtag diciamo più utilizzati anche in base al settore di riferimento, magari metto, se scrivo ambiente mi dà tutta una serie di hashtag che hanno, diciamo, maggior visibilità su Instagram, quindi la scelta dell'hashtag però è molto importante. Cerchiamo di avere anche il nostro, se sono la didattica utilizzerò sempre anche tra i vari hashtag anche quello la didattica per, come dire, caratterizzare la mia presenza su Instagram. Infine l'ultima l'ultima novità della piattaforma che si sta spingendo sempre più su immagini e video sono i Reels che sono, diciamo, la modalità di contenuto che in questo caso è stata mutuata da TikTok che poi vedremo successivamente. Sono dei brevissimi video che vanno a scorrimento di continuo e che in qualche modo mi riempiono continuo la mia timeline e quindi se io sono su Instagram oltre ad avere delle belle foto o comunque delle belle immagini oltre a fare le stories devo iniziare a ragionare anche di realizzare dei Reels perché? Perché questi sono i contenuti che funzionano di più e ne devo fare anche un buon numero perché anche in questo caso siamo a scorrimento continuo quindi non è che faccio un Reels il mercoledì e il prossimo fra due settimane no devo come dire pormi il il problema su come realizzare questo tipo di contenuti e sono anche un contenuto che ha molta immediatezza molta autenticità molto leggero deve essere però se riesco come dire a inserirmi nel flusso degli utenti che vanno a scorrere continuamente questi video posso come dire raggiungere anche un pubblico più ampio e magari poi mi seguirà mi seguirà su Instagram mi potrà seguire sulle altre piantature però se il mio contenuto sarà valido senz'altro avrò un ritorno certo è un contenuto che non è semplicissimo per la pubblica amministrazione ma bisogna polsi se sono lì devo parlare come con le stories con i rizzi pericento mi fermerei un attimo qua visto che è trascorsa circa un'oretta darei questi 5 minuti di di pausa e riprendiamo intorno 10 e 30 10 e 40 al massimo si vediamo alle 10 e 40 assolutamente sì Andrea grazie buon caffè a tutti quanti nel frattempo io rimango qui per rispondere eventuali vostre domande devo dire una sessione abbastanza densa di domande anche in chat per cui a tra poco 10 e 40 riprenderà la lezione sono le 10 e 40 cominciamo a riprendere posto dopo la pausa caffè eccoci pronti per la seconda parte del nostro incontro Andrea quando vuoi l'aula è tua un caffè struzzato ci scrivete è vero rapido espresso che ci sono mi sentite perfettamente Andrea a te ok partiamo subito anche perché non abbiamo tantissimo tempo se vogliamo tenerci una piccola parte per rispondere alle domande quelle a cui non daremo risposta diciamo adesso in diretta comunque in qualche modo per mail risponderemo a a tutti allora tra i servizi diciamo da considerare abbiamo parlato adesso dei dei video che stanno invadendo la parte contenutistica dei social tra le piattaforme che da sempre è tra le più interessante una strategia di comunicazione social network proprio collegata ai video c'è youtube che in italia tra l'altro ha una grossissima diffusione anche superiore ad altri ad altri paesi insomma perché perché in italia c'è grossa attenzione per i contenuti veicolati su questa piattaforma ma perché ora abbiamo visto facebook è il social che comunque ci permette di fare tantissime cose delle dirette l'abbiamo visto nella pandemia quanti amministrazioni hanno scelto di utilizzare facebook anche il presidente del consiglio dei ministri ai tempi utilizzava facebook per le dirette per dare informazioni sulla pandemia quindi dirette video copy immagini insomma facebook ci permette di fare un po' di tutto e di raggiungere un pubblico molto vasto twitter ha la possibilità di farci ascoltare quello che succede dare informazioni in maniera molto breve molto coincise quindi molto utile da questo punto di vista instagram raggiunge una fascia di popolazione che è quella che per una pubblica amministrazione è più difficile molto spesso da raggiungere e lo fa con modalità e linguaggi che sono totalmente diversi a quelli a cui siamo abituati negli enti pubblici ma che ci permettono di svecchiare moltissimo anche il rapporto con gli utenti ma tra i social network c'è anche youtube perché allora devo restare anche su youtube l'ho detto poco fa perché è una piattaforma molto utilizzata dai cittadini e video on demand non significa soltanto intrattenimento ascoltare vedere un video musicale piuttosto una clip divertente si sceglie youtube non solo per divertirsi ma molto spesso per imparare questo è uno dei motivi principali per cui un utente va su youtube infatti 7 utenti su 10 scritti alla piattaforma utilizzano youtube per avere assistenza su un problema che ha a che fare con il loro lavoro gli studi o gli occhi può succedere a tutti che nel nostro quotidiano dobbiamo affrontare un problema molto spesso anche pratico e dove andiamo a vedere come si fa mi si rompe la zanzariera a casa per aggiustarla qual è la prima cosa che mi viene in mente andare su youtube e vedere se c'è un video di qualcuno che aggiusta una zanzariera e come dire in quel modo imparare come fare e quindi i tutorial hanno un grandissimo successo su youtube devo perciò immaginare utilizzare la piattaforma magari come ente pubblico per raccontare magari le bellezze della mia città per anche chiaramente creare dei video emozionali che in qualche modo siano belli e attraggano gli utenti posso utilizzarla per raccontare il dietro le quinte dell'attività che avviene nel mio ente un comune francese ad esempio qualche anno fa invece utilizzava youtube per come dire far vedere l'attività quotidiana della polizia locale sulla scorta anche di programmi televisivi che voglio dire vanno magari sono di gran moda e quindi in quel modo faceva vedere sull'attività magari notturna la polizia locale a cavallo in quel caso c'era anche quella quelli che diciamo si aiutavano in varie situazioni interventi della polizia municipale perché perché magari molto spesso il cittadino visto soltanto come quella che farebbe molto invece faceva tante attività e per raccontarle aveva scelto youtube dietro le quinte come diciamo è uno dei contenuti che funziona benissimo sui social specialmente in quelli di immagine e quindi funzionava anche su youtube ma l'utilizzo può essere anche quello di creare dei tutorial ad esempio l'abbiamo visto prima è stato pubblicato su facebook il video del comune di Arezzo ma era un contenuto che poteva essere pubblicato anche su youtube come faremo da settembre per muoverci oppure fare anche dei tutorial molto più semplici ad esempio come faccio a scaricare quel modulo sembra magari un contenuto banale ma non è detto che tutti sappiano come può fare qualcosa di che cosa c'è bisogno come faccio a pagare magari lanciamo il portale per pagare le tasse online spieghiamolo magari in un tutorial come si può fare una registrazione in un contenuto che può essere utile al cittadino perché perché gran parte degli utenti della piattaforma dichiarano utilizzare molto spesso youtube per imparare qualcosa di nuovo quindi diamo di qualcosa di nuovo è evidente che se io tengo youtube soltanto come l'archivio dei video magari delle sedute del consiglio comunale molto difficilmente potrebbe essere un utilizzo che piace al cittadino per carità ci mancherebbe altro è importante per la trasparenza far vedere le sedute del consiglio comunale in quel caso magari evitamolo anche non teniamo un video di tre ore dove se io voglio andare a vedermi un argomento specifico devo andarmelo a cercare in una infinita in un video infinito cerchiamo a risprensiamo cerchiamo di aiutarlo a trovarlo però in generale se vogliamo mettere creare una presenza su youtube dobbiamo pensare che abbiamo a disposizione uno strumento dove le persone cercano risposte e quindi diamogli anche almeno una parte dedicata a a questo aspetto oltre chiaramente come dicevo prima al dietro le quinte ai video emozionali a tutti i contenuti e comunque da social network pensiamo anche alla nostra presenza su youtube come un vero e proprio palinsesto televisivo dove io ho anche playlist in cui riesco organizzo i contenuti quindi se io magari sono producono molti contenuti collegati al settore dell'ambiente perché in quel periodo stiamo la mia amministrazione ha cambiato il sistema di raccolta dei rifiuti allora creerò una playlist ambiente dove vado a cercarmi le informazioni che mi interessano scuola che è un altro tema che chiaramente sta molto a cuore alla cittadina che impatta molto sulla quotidianità quindi puntiamo a creare una playlist ad hoc sulla scuola e via dicendo quindi immaginiamo di avere a disposizione una specie di web tv dove veicolare le informazioni del ambiente dell'amministrazione e ci sono anche in questo caso delle esperienze fatte molto bene a livello di pubblico di amministrazione italiana vi consiglio ad esempio andare a vedere il profilo youtube dell'Inail che ha un grandissimo numero di fan che pubblica tantissimi video ad esempio da vuol dire anche video di chi ha usufruito ad esempio di quel servizio sono temi che possono andare molto bene su youtube e quindi in una strategia di presenza sui social se devo ridurre youtube soltanto un archivio di video allora non è cioè lo tengo può essere comunque magari mi serve ma non è quello su cui andrò a puntare se decido di puntare su youtube devo creare dei contenuti ad hoc per la piattaforma non avviene per tutti gli altri social network andiamo a vedersi anche un social che più di ogni altro in questo momento è diciamo quello che attira l'attenzione c'era una statistica arrivata proprio ieri sera ho visto sulle applicazioni più scaricate dagli store android e ios nel corso del 2021 ecco l'applicazione più scaricata l'anno scorso è stata tiktok e che è la novità perché perché comunque riesce diciamo è il social in questo momento di tendenza ora su questo aspetto è bene fare una riflessione allora magari io non posso essere presente perché non ho le risorse umane e professionali per essere presente su tutte le piattaforme che anche oggi andiamo a vedere da facebook a youtube a tiktok a linkedin non posso magari essere continuamente presidiare ed essere creare contenuti per tutte queste piattaforme ma questo non vuol dire che io non debba conoscerle perché magari la tendenza del momento la vedo meglio su tiktok che su facebook e la tendenza è molto sui social che in questo caso sono i video brevi mutuati a tiktok parte da tiktok ma adesso si diffonde su tutte le piattaforme perché l'universo social funziona così magari ho una piattaforma dove ho un pubblico diverso ma i linguaggi alla fine vanno ad uniformarsi tra le varie piattaforme tra i vari social basta pensare alle stories che erano inizio su snapchat poi su instagram adesso sono su praticamente tutte le piattaforme quindi se anche io non ho la possibilità non è tra gli obiettivi del mio ente della mia amministrazione sbarcare su tiktok perché perché comunque è un social particolare dove la fascia di età è veramente bassa diciamo si va dai 15 ai 25 anni come come fascia di età e quindi non ho contenuti da avvicolare a quella determinata fascia di età perciò tiktok non è magari quello che mi interessa però lì vedo vediamo come si sta spostando quali sono le tendenze nel mondo social basta pensare che nel 2021 questa piattaforma ha raggiunto il miliardo di utenti e in Italia si stima intorno ai 5 milioni e mezzo di utenti la presenza di stimentura è 5 milioni e mezzo di utenti quindi comincia ad avere una fetta di mercato cioè nel mercato social molto importante e in maggioranza diciamo l'utente tiktok è una donna tra i 16 e i 24 anni questa età 16 e i 24 anni diciamo è quella che è più adatta a raccogliere le innovazioni e quindi devo seguire magari questa l'evoluzione di una piattaforma di tiktok proprio per comprendere meglio dove andare cioè dove spostare la mia comunicazione come sapete tiktok è famoso per i video divertenti molto brevi uguali a rizzo ovviamente dove con un ballettino un po' di musica un paio di effetti speciali video si fa passare la comunicazione nel due anni di pandemia questo tipo di social ha avuto una crescita veramente esponenziale anche perché era un social divertente cercavamo tutti un po' di svago e lo trovavamo insomma tutti i giovanissimi lo trovavamo su tiktok e dall'altra parte cosa ha portato ha portato a una grandissima crescita diciamo così del numero di quelli dei cosiddetti creato cioè di che è in grado di creare contenuti perché su tiktok creare contenuti è molto semplice si punta molto su contenuti leggeri facili ma soprattutto immediati perché su tiktok faccio un video e lo pubblico e quindi tutti sempre di più diventiamo creatori di contenuti se diciamo così con le prime i primi social network sono diventati in qualche modo tutti abbiamo avuto a disposizione uno strumento di comunicazione con tiktok tutti quelli che sono presenti sulle piattaforma possono diventare facilmente creatori di contenuti e attenzione questo è interessante perché sono formate anche tante piccole comunità di creatori di contenuti che se io avvio una strategia social posso andare a cercare abbiamo visto ad esempio con anche un'altra piattaforma in passato che c'è stato il coinvolgimento del pubblico per la creazione di contenuti e la gestione magari di un account successo con Instagram la comunità la prima comunità di utenti della piattaforma che si era riunita erano gli Instagramers e alcune ci sono molte esperienze diciamo di amministrazioni locali ma mi ricordo ad esempio il comune di Rimini ma anche amministrazioni ma anche ministeri che si sono rivolti agli Instagramers per come dire avere una collaborazione quindi io ti davo la possibilità di usufruire il mio profilo su Instagram e dall'altra parte venivano fornite immagini veniva fatta una gestione condivisa dell'account perché? perché comunque avevo a disposizione una piattaforma che mi permetteva di coinvolgere comunità piccole comunità perché gli Instagramers sono piccole comunità collegate al territorio c'è chiaramente associazioni nazionali poi ci sono quelli a Siena piuttosto che a Dancuna a Pavia e via dicendo insieme a loro riuscivo a creare contenuti fatti bene molto buoni per la piattaforma e a gestire in maniera condivisa ecco lo stesso ragionamento può avvenire con TikTok perché perché sempre più diciamo sta crescendo questa comunità di creatori di contenuti per la piattaforma allora se io valuto di sbarcare su questo social così nuovo e per certi versi anche complicato per una pubblica amministrazione posso valutare magari di fare dei progetti collegati alle piccole comunità di creatori di contenuti che trovo sul territorio ora questo è veramente cosa chiede che io sia presente su TikTok e segua quello che succede sulla piattaforma e TikTok sta cambiando notevolmente anche l'approccio professionale che finora abbiamo avuto nella gestione dei social network perché perché gli utenti trascorrono tanto tempo su TikTok perché in questi video a scorrimento sono veramente uno dopo l'altro dopo l'altro non smetteresti quasi mai non smetteresti mai di vederli quindi ci stanno tanto tempo ma dedicano molto meno tempo a interagire magari con il singolo contenuto se prima magari leggendo vedendo le immagini e poi valutavo se metterò mi piace adesso si consumano contenuti a scorrimento continuo piccoli contenuti quindi anche il contenuto che io vado a utilizzare sarà sempre più ridotto mi dico spazio per dare l'informazione sarà sempre minore l'approfondimento già sui social è diciamo complicato perché devo dare una informazione in tempi brevissimi con tecnica anche veramente di si dice che non più di 10 secondi deve durare il contenuto sul social ancora meno su TikTok quindi avrò ancora meno spazio a disposizione per dare le informazioni e dovrò pubblicare contenuti di continuo quindi questo andrà a impattare anche sul piano editoriale che mi sono fatto magari per la gestione dei miei social network perché perché se abbiamo detto anche la volta scorsa se io sono presente su più social o più strumenti di comunicazione online offline digitali devo fare un piano di comunicazione che sia integrato e che preveda quindi di sfruttare i vari canali è evidente che se io il il mio contenuto che va a essere inserito cioè ho bisogno di tantissimi contenuti che devono essere contenuti di dimensioni ridotti un gran numero devono rispettare diciamo il più possibile l'autenticità e l'immediatezza perché questo è la mia della piattaforma è evidente che va fortemente a impattare su quelle che possono essere state le scelte a monte della mia presenza sui social network perché se io prevedevo di pubblicare magari un post un tweet o tre post due tweet al giorno o magari una foto una stories con tiktok devo aumentare notevolmente la mia frequenza di pubblicazione di contenuti non solo ma se fino adesso ho valutato gran parte del mio lavoro sui social network in base alle interazioni perché io ho visto che certi contenuti interessavano più o meno la mia community perché? perché vedevo un maggior numero di interazioni di condivisioni e quindi come dire vedevo che su quel contenuto l'utente compieva faceva un'azione no? non solo lo scorreva tra i tanti contenuti che vedeva su facebook ma andava ad aprirselo faceva un click sul link faceva faceva un metteva un mi piace faceva un commento condivideva a quel contenuto per farlo vedere ai suoi amici quindi in base a quello mi rendevo conto che si venisse la mia pagina aveva un tot numero di fan un tot numero di follower quel contenuto era stato visto n volte ma soprattutto era un contenuto che aveva in qualche modo interessato gli utenti perché? perché aveva portati a compiere ulteriori azioni ecco se io ho dei contenuti che mi vanno a scorrimento continuo e che io come dire ho sempre meno interesse a interagire con i singoli contenuti è evidente che mi devo ripensare se quale contenuto funziona o non funziona cioè le interazioni sono sempre un dato fondamentale per comprendere se il mio contenuto sui social funziona o meno questa domanda e molto probabilmente dovremmo porci andando avanti se il modello tiktok andrà ancora avanti e si affermerà sempre di più certo dall'altra parte come dicevo la formula tiktok anche quella è incoraggiato a creare sempre più contenuti perché non ci sono particolari standard per cui il contenuto funziona meno bene o no su tiktok posso decidere di andare sulla piattaforma e iniziare a pubblicare questa è la volontà di tiktok pubblicare contenuti incoraggio la piattaforma a mettere i mini video online di continuo perché così si erano una quantità di contenuti sempre maggiore che scorrono e che come detengono l'utente sulla piattaforma quindi come vedete abbiamo cambiato notevolmente l'idea perché un utente sta su tiktok rispetto che su un social più tradizionale ci sono esperienze anche di enti locali che hanno scelto utilizzare tiktok e chiaramente se vado su tiktok io mi rivolgo come abbiamo visto a una platea di giovanissimi dovrò utilizzare diciamo le modalità di linguaggio come ho detto per tutti i social anche su tiktok quindi dovrò mediare o cercare il punto di caduta tra le esigenze chiaramente che al mio ente la mia amministrazione di comunicazione perché è evidente che non è che io vado su tiktok e posso pubblicare balletti o il mio animale domestico che si ruzzola qua e là perché molti dei video che poi vediamo magari sono quelli oppure scene di vita quotidiana alla ricetta sono un ente pubblico quindi dovrò come dire rispettare chiaramente la mia mission che è quella di informare i cittadini riguardo all'attività dell'enti però posso utilizzare la piattaforma per comunque pubblicare contenuti che in qualche modo mi fanno creare una community anche su tiktok e tra i contenuti che vado a presentare ci saranno una serie di video magari più o meno divertenti più o meno adatti alla piattaforma ad esempio in questo caso come in Trieste fa vedere il backstage degli eventi iniziative nelle scuole oppure coinvolge le associazioni giovanili in mezzo a questo cercherò anche di inserire quelle informazioni che servono che devo divulgare magari per raggiungere giovanissimi ma se oggi ad esempio sono un ente che si occupa di salute pubblica devo fare una campagna per magari sensibilizzare giovanissimi ai corretti stili di vita è evidente che è inutile che io crei contenuti da pubblicare soltanto su Facebook perché lì raggiungerò una piccolissima parte del diciamo degli under 20 se degli under 25 se li voglio raggiungere veramente e informarli sui corretti stili di vita devo pensare a fare una campagna su TikTok e quindi dovrò puntare a creare contenuti per quella piattaforma magari saranno contenuti di più facile visione di più molto brevi molto semplici che però andranno quantomeno saranno indirizzati al target di riferimento questo è fondamentale in una strategia social decidere il target a cui mi voglio rivolgere perché come ho detto più volte nel corso di questo incontro se abbiamo necessità specifiche dobbiamo andare a vedere qual è la piattaforma che ci permette di raggiungere quel pubblico concludiamo con un passaggio anche su LinkedIn che è un'altra piattaforma molto interessante per la pubblica amministrazione tra l'altro una piattaforma che ha le sue caratteristiche ancora diverse rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad adesso che ha avuto una grossa crescita negli ultimi anni e una grossa crescita anche a livello di pubblica amministrazione sono sempre più gli enti pubblici che decidono di puntare anche su LinkedIn che fino a qualche anno fa era considerata diciamo la piattaforma del cerca e trova lavoro ma in realtà non è così LinkedIn è molto di più innanzitutto parlavamo adesso del target dei giovanissimi ecco se io invece ho intenzione di rivolgermi a un target formato da aziende professionisti è inutile che vada su TikTok ma sceglierò LinkedIn quindi per certi tipi di messaggi per certi tipi di messaggi privilegerò una piattaforma come LinkedIn rispetto a altre piattaforme che magari hanno anche una base utenti generale più ampia senz'altro sono più diciamo gli iscritti a YouTube magari che a LinkedIn sono più gli iscritti a Instagram che a LinkedIn ma su LinkedIn certi messaggi avranno più successo rispetto che su altre social network perché perché lì cosa mi aspetta chi si iscrive alla piattaforma si aspetta di poter trovare lavoro magari se in cerca di lavoro poter avere a che fare con professionisti del suo stesso settore e quindi scambiarsi esperienze trovare informazioni utili per il suo lavoro e quindi è evidente che come abbiamo detto fin dall'inizio se io scelgo LinkedIn dovrò avere il linguaggio dell'Inkding a quel punto e quindi inserire i contenuti che vanno bene su LinkedIn e che quindi trattano quelle tematiche e comunque come dicevo una piattaforma in grossa crescita circa 700 milioni di utenti attivi in questo caso la fascia di età è ben diversa rispetto a TikTok che abbiamo visto poco fa perché la fascia di età più rappresentata su LinkedIn è quella che va da 25 a 49 anni quindi diciamo la parte diciamo più la forza lavoro è su LinkedIn l'utente di LinkedIn è anche quello diciamo che ha un titolo di studio più alto cioè più di un utente su due o un titolo di studio universitario o maggiore quindi posso dire che è un pubblico molto selezionato perché dunque l'amministrazione una pubblica amministrazione dovrebbe scegliere di andare anche su LinkedIn perché abbiamo visto fin dall'inizio che devo valutare le possibilità che ho a livello di professionità e forza lavoro per scegliere i social su cui essere presenti perché poi le regole poi di pubblicazione di contenuti di presidio non è che su LinkedIn siccome abbiamo una fascia d'età 25-49 siccome sono il titolo di studio è un'università di uno su due universitario maggiore allora sono diverso cioè anche su LinkedIn inserisco un contenuto e ci serve la prossima settimana perché basta su LinkedIn un post o una volta alla settimana ogni 15 giorni le regole di ingaggio alla fine sono sempre le stesse per i social quindi il presidio l'organizzazione le reazioni di contenuti siano validi perché non è che quello che va bene su Facebook va bene anche su LinkedIn o viceversa perché magari al pubblico di LinkedIn certe informazioni che veicolo su Facebook non interessa cioè il concerto della corale su LinkedIn che me ne importa di metterlo dovrò scegliere tra gli argomenti quelli adatti alla piattaforma quindi dovrò pensare che mi servirà per senz'altro migliorare la visibilità di cittadini in generale della mia amministrazione a un fronte cittadino in generale ma soprattutto degli imprenditori dei professionisti collegare i dipendenti perché molti dei dipendenti del vostro ente saranno su LinkedIn e voi potete collegare e creare la vostra comunità sulla piattaforma e poi andare a pubblicare tutta una serie di informazioni per esempio dare informazioni in tempo reale sui bandi sugli eventi diciamo di di argomento professionale e lavoro organizzati dalla vostra dal vostro ente alla vostra amministrazione sui progetti anche in questo questo senso e comunque potrete attraverso LinkedIn come dire aprire un universo che magari è presente anche su altri social network che potete raggiungere magari anche attraverso altri social network ma che lì cercavi le informazioni specifiche e quindi se un professionista segue la pagina di un'amministrazione su LinkedIn è perché vuole essere informato su quali possono essere le opportunità di lavoro con quell'amministrazione viceversa un'amministrazione può come dire andare a cercare su LinkedIn le professionalità di cui sente la necessità e creare una comunità ad esempio una comunità di professionisti di un determinato settore può dare anche il proprio contributo su un progetto dell'amministrazione ora ci sono già esperienze di enti che hanno scelto di allargare il proprio raggio di azione sui social network scegliendo anche LinkedIn ad esempio il Comune di Milano questa è la pagina ufficiale del Comune di Milano dedicata alla selezione dei concorsi pubblici nel Cavoluovo a Lombardo ha fatto una scelta ben chiara con il Milano dice bene vado su LinkedIn per cosa? per selezione dei concorsi pubblici per dare quindi avviso di selezione dei concorsi pubblici ma vedete che nel frattempo ha creato una comunità di 4255 dipendenti dell'amministrazione presenti su LinkedIn e contenuti quindi che andrà a pubblicare l'amministrazione Lombarda su questa piattaforma sono bandi ok? non ha scelto diciamo sì di indirizzare precisamente i contenuti a pubblicare su LinkedIn a questa tipologia i bandi altre amministrazioni invece hanno fatto scelte diverse non limitarsi soltanto magari a pubblicare il bando ma a pubblicare anche altri tipi di contenuti ad esempio il Comune di Firenze questa è la pagina ufficiale dell'amministrazione fiorentina pubblica bandi occasioni di lavoro tutta una serie di informazioni chiaramente che servono a chi cerca a chi cerca lavoro a chi vuole andare a lavorare presso quell'amministrazione perché poi alla fine LinkedIn è molto utilizzato veramente anche per la domanda e l'offerta di lavoro come ho detto anche prima e molto spesso diciamo che i nuovi iscritti alla piattaforma sono comunque iscritti abbastanza giovani che quando è terminato magari il percorso di studi sono a cercare di lavoro e vogliono sfruttare anche le opportunità che vedono su LinkedIn oppure perché sulla piattaforma aprire una call su LinkedIn vuol dire ricevere un gran numero di curriculum oggi o oggi si stima che ci sia a livello mondiale ogni minuto c'è su LinkedIn c'è l'incontro tra una domanda e un'offerta di lavoro quindi voglio trovare un lavoro è veramente una delle necessità peggiori degli obiettivi principali non solo dei giovani ma in generale di tutti e quindi la piattaforma è molto attrattiva da questo punto di vista ma il Comune di Firenze non soltanto pubblica avanti avvisi selezioni ma pubblica anche informazioni per diciamo professoristi o per giovani in cerca di occupazione quindi si organizza e qui torniamo alla cross-medialità degli strumenti in questo caso magari organizzo una serie di eventi per come dire parlare del tema giovani e lavoro e far vedere quali possono essere per i giovani oggi le opportunità professionali e la riporto riporto questo contenuto anche sui social network magari lo metto su una piattaforma generalista come Facebook ma appunto a farlo vedere anche su un social di chiamiamolo dove il pubblico ha diciamo è più selezionato come può essere LinkedIn quindi riapitolando e poi andiamo alla parte in cui vediamo di rispondere a qualche domanda anche se vedo che sono tante non so se riuscirò a rispondere a a tutte allora abbiamo visto che una pubblica amministrazione che decide di sfruttare la comunicazione social ha varie opportunità il social diciamo più strutturato più in cui anche sono più presenti enti aziende pubbliche è sicuramente Facebook che è quello più diffuso generale dove posso come dire inserire tutta una tipologia di contenuti anche più diversi i linguaggi su Facebook possono essere anche molto diversi posso andare da un linguaggio fatto di immagini emozionali perché magari do il buongiorno una bella foto del mio territorio a un copy ben fatto a un video a una diretta video e qui diciamo nella mia strategia Facebook può essere comunque un social sempre presente devo valutare in base a quelle che sono le mie le mie disponibilità sia umane che professionali si affiancare magari alla la presenza su Facebook anche altre social network come ad esempio Twitter che però mi richiede contenuti diversi un presidio maggiore rispetto a Facebook perché l'altra parola non diventarsi mai è presidiare le piattaforme perché un cittadino che arriva su Facebook può darsi e ponga una domanda e la può porre in qualunque momento su qualunque argomento e io devo essere in grado di dare una risposta che può essere anche guarda qui sta nella pagina per vedere quel tipo di informazioni ma devo essere presente ci sono poi i social diciamo più legati al visual come Instagram che è quello attualmente più diffuso come TikTok che è quello invece in maggiore ascesa nel mondo social che hanno tutte le proprie regole e che principalmente stanno portando il linguaggio social e i contenuti da pubblicare sul video molto brevi quindi se io scelgo queste piattaforme dovrò pensare anche che avrò di fronte un pubblico di giovanissimi e che dovrò dargli contenuti che piacciono ai più giovani quindi video e video brevi oltre a immagini e stories ci sono poi altri social diciamo altrettanto importanti YouTube che è quello dedicato ai video che devo utilizzarlo però non soltanto come archivio dei video ma creando contenuti ad hoc che siano in parte di intrattenimento possibilmente essendo un'amministrazione ma affiancargli anche contenuti utili per dare risposte ai cittadini attraverso un video magari di meno di un minuto e LinkedIn infine come abbiamo visto adesso che invece è importante nella mia strategia social se io voglio andare a raggiungere aziende professionisti e essere diciamo anche un punto di incontro tra chi per chi cerca lavoro quindi pubblicare anche bandi e avviso della mia amministrazione in tutto questo io devo pensare sempre di ragionare attraverso una strategia chiaramente di comunicazione e un piano editoriale di pubblicazione in modo da evitare di uscire su social diversi con informazioni magari non coordinate e però devo riuscire a integrare il piano di pubblicazione che fa l'editoriale con le nuove strategie delle piattaforme che premiano sempre di più un gran numero di contenuti un gran numero di contenuti da pubblicare in tempo reale e con modalità diciamo non più soltanto di scrittura ma soprattutto con modalità di visual ovvero immagini grafiche e video credo di aver ripercorso molto velocemente come ci siamo detti oggi proverei ad andare a vedere qualche domanda abbiamo un po' più di 5 minuti ma comunque vediamo di rispondere a quanto più possibile allora come si ottiene la spunta per aver riconosciuto una pagina ufficiale va fatta la richiesta a facebook magari se ritiene utile lo invieremo il link per per avere la procedura e richiede tutta una serie di caratteristiche la principale è quella di dimostrare che è la pagina ufficiale che chi la gestisce è un insomma ne ha la piena proprietà della pagina ci sono vari modi insomma per dimostrare poi che la pagina è quella ufficiale del comune o dell'azienda tal detali in questo caso diamo un occhio magari se ci sono pagine simili che magari ho la mia pagina comune di battela pesca con e però c'è anche un'altra pagina del comune quindi attenzione a vedere se ci sono pagine che magari in qualche modo possono disturbare questa procedura richiede comunque un bel po' di tempo non è immediata anche se i tempi dei social noi diciamo sempre che sono immediati cerchiamo di essere rapidissimi però in questo caso ci vuole un po' di tempo insomma anche solo per la produzione di documenti Stefano Pappalardo mi chiede chi mi autorizza a fare una pagina ufficiale per questo è una cosa che vedremo in uno dei prossimi incontri se si riferisce a chi vi autorizza all'interno di una struttura pubblica di un'organizzazione pubblica sia un comune un ministero una regione a fare una pagina ufficiale è una cosa che affronteremo quando parleremo delle policy perché nella social media policy interna andrà indicato anche chi autorizza ad andare online con una pagina ufficiale dell'amministrazione Girovoto città di Firenze e canale come in Firenze da città metropolitana del comune di Firenze questa era facile Alessandra Basce chiede la PA gestisce le pagine outsource il consumo di personale interno formando la doc beh allora io credo che la soluzione deve essere quella di gestirle con il proprio personale è chiaro che è necessario formare il personale su queste piattaforme che hanno il difetto di apparire molto molto semplici perché da un lato lo utilizziamo tutti sono su Facebook su Twitter su Instagram ci metto insomma chi diciamo è al di fuori di certe dinamiche e logiche chiaramente le vede come strumenti di una facilità veramente sono così facili che c'è bisogno di scrivere un po' su Facebook che ci vuole in realtà hanno le loro regole come abbiamo visto anche oggi hanno bisogno di contenuti sempre più comunque che vanno al di là del copio e dunque serve una formazione attenta anche poi lo vedremo nei prossimi conti anche nelle relazioni si vanno a creare con il cittadino quindi anche nei modi nel tono nel linguaggio che andiamo a utilizzare dobbiamo stare molto attenti niente vieta però che una pubblica amministrazione si rivolga anche a agenzie esterne magari se ho bisogno di organizzare determinate campagne se ho bisogno di creare determinati contenuti niente vieta che ci si possa far affiancare dal lavoro anche da personale esterno all'enti in linea di massima quello che ci vorrebbe è che comunque ci sia una comunicazione stretta si lavori tutti insieme tra chi si occupa di comunicazione all'interno dell'amministrazione sia che siamo allo sportello a fare front office con i cittadini sia che siamo a gestire le pagine social dell'amministrazione sia che siamo l'ufficio stampo dobbiamo andare tutti di pari passo l'abbiamo visto che l'altra volta facciamo una strategia integrata e tutti devono fare la loro parte ma devono essere a conoscenza dei contenuti che va a divulgare l'amministrazione tra i vari social quella rilevanza di LinkedIn per la comunicazione delle istituzioni pubbliche chiede Antonella Furtado secondo me è importante LinkedIn non so se l'ho sottolineato abbastanza quando l'abbiamo parlato anche se molto velocemente ma è un social molto importante uno perché è in crescita e quindi con gli utenti in crescita vuol dire che io posso sfruttare anche il vento buono di LinkedIn due perché comunque i temi di LinkedIn sono molto vicini a quelli di una pubblica amministrazione quindi è un social che si presta molto bene a divulgare le informazioni pubbliche amministrazioni molto più anche di altre piattaforme quindi se io dovesse andare a come dire a realizzare una strategia di comunicazione di un ento di un'azienda pubblica e chiaramente al di là di quelle sono tutte le esigenze tutte le professionalità tutti i problemi che possono nascere ma se io avessi possibilità di scegliere tra poi piattaforme LinkedIn sarebbe senz'altro una di quelle che mi sentirei di consigliare al mio ente ringrazioni siamo vedo Barbara quindi credo che siamo arrivati siamo ai titoli di coda infatti Andrea si approfitto per ringraziare tutti i partecipanti per l'attenzione che hanno mostrato verso tutti quanti i contenuti un grazie speciale a te Andrea faccio presente a tutti che è stata una sessione si densa di contenuti e anche molto attiva a livello di chat tanto che come alcuni avranno notato la chat è stata cancellata perché aveva raggiunto la capienza massima di commenti possibili però non vi preoccupate tutti i vostri commenti e le vostre domande anche quelle che Andrea non è riuscito per ragioni di tempo a disposizione a rispondere verranno ovviamente presentate ad Andrea che risponderà e tengo anche a precisare che tutti i materiali voglio dire le registrazioni le slide i materiali didattici e anche le FAQ stiamo predisponendo un file di FAQ verranno messi a disposizione alla fine di ogni modulo tematico quindi su questo non vi preoccupate assolutamente grazie a tutti grazie ad Andrea l'appuntamento è per martedì 3 maggio alle ore 9.30 grazie di nuovo a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti